Musica Erano chiusi in un'auto in via Lanzo all'altezza del Civico 49 a Torino. Un barboncino nero, un gatto tigrato rosso, si trovavano all'interno di una situra imparcheggiata. Un finestrino era leggermente abbassato, tanto che gli animali potevano respirare, ma in ogni caso erano chiusi all'interno dell'auto senza cibo né acqua. È accaduto sul tardo pomeriggio di oggi, sabato 27 gennaio. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale di Barriere di Milano e i vigili del fuoco di Venere Areale, mentre è stato avvisato il canile per il recupero degli animali, poiché non si riusciva a rintracciare, non essendo della zona, i proprietari dell'auto. Arrivati volontari del canile, sono arrivati quasi in contemporanea anche i proprietari dell'auto. Marito e moglie si sono immediatamente alterati e hanno sostenuto di essersi allontanati, contrariamente da quanto è stato detto dai residenti e dagli agenti, soltanto per una decina di minuti. A quel punto gli animali sono stati lasciati ai proprietari. Le agenti di polizia locale procederanno con ulteriori verifiche. Si sa se è stato rintracciato o meno. Io sto riprendendo l'intera scena che crema no. E' bella come storia, sai questa ne avremmo lì. E' bella come storia, sai questa ne avremmo lì. E' bella come storia, sai questa ne avremmo lì. Grazie a tutti.